Sì sudato? Non so se sei in ascolto, ho esplorato ogni fiume per trovarti e ora sono giunta all'ultimo fiume. Ascolta, siamo allo stremo e abbiamo tanto bisogno nel tuo aiuto. Beh a dire il vero, sono io ad avere bisogno. Ho fatto uno sbaglio, mi sono fidata nella persona sbagliata e ora è un bel agirato. Sì sudato? Vorrei, vorrei riavere il mio papà. Ti prego. Ok. Ultimo tentativo. Suvade drassin, mandrade dralin, bavade dratomben. Lo so, tranquillo. Arrivo solo. Oh mamma, dove sono? Vengo. Amba? Fran? Dove siete? Oh potente, sì sono. Chi è che parla? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oh, scusa, non ti avevo visto. Nulla di grave, solo un po' di sabbia, ti do una scolverata. Sì, tu sei... Sì, tu. E tu? Sei umana. Come ti chiami? Raya, mi chiamo Raya. E vedo che non sei di pietra. Il che vuol dire? Ha funzionato! È andata! Hai sentito, bello, ha funzionato! Non ho fatto pasticci! È roba da mangiare. Ero così presa a salvare il mondo che oggi non ho fatto colazione. Come? Oggi? Quando dici oggi? Di che giorno parli? Martedì. Voglio dire... Cos'è questa prelevatezza? Quella è frutta secca. È una mie c'è. Beh, complimenti allo certo. Ne vuoi ciò? Ah, sì Su. Ci sono alcune cose che dovresti sapere. Ah sì? Si è rotta!